bella ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi abbiamo un replay got abbiamo dorpo pio con 1634 rating contro muffman con 1063 rating questo dovrebbe essere un altro alt di pio dorpo il tipo si non molla non molla niente ok parte blu parte breaker regge key break dash shoot kiko spia e dorpo pio parte no knight assaliante and the dragon grace full upstart vabbè va bene ok ok blu pesca moff ok not the greatest but almeno c'ha dash shoot almeno quello setta la spia setta 2 passa setta 1 setta 1 setta solo dash shoot ok si becca si becca dash shoot no 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 via 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 who are you 1 9 1 1 non so chi sia chi è è ludo no 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 oh non lo so fammi sapere se ci sei batti un colpo dar può più okay vabbè vi fa upstart anche grace full ok pesca almeno la decoichi il salitore ok sta scoprendo cose nocco su spia tre spia tutte e due ok sette decoici normal decoici picchia ok weird enough ok non contesto questa cosa qua però questa decoici qua perde da tutto praticamente boh non lo so non l'ho capito molto bene però ok ok rimuove con chicco adesso qua deve io deve mi fa zucco ah no ok latenta cattivo no latenta cattivo qui si becca un bel no adesso gli fa va bene ok scarta assalitore scarta upstart riprende il moffo break rimuove pesca pesta forte ok rimuove cose sette anche mirror mmm mmm ok la vedo un po' grigio qua se fargli sangra adesso probabilmente per almeno a darsi qualcosa che è che è boh boh no secondo me deve fare zucche picchia le sto beccando tutte proprio ragazzi qua però gioca contro knock ma secondo me lo sa che non va da nessuna parte questo eh vabbè eh vabbè va bene pesca pure BLS pesca pure Thunder Drago madonna mia altro 1.6 dentro pesca upstart pesca night assalian normal bitta prende serpente noxum off almeno quello ebbè qua perde boh non lo so secondo me sia Ludo comunque non sicuramente Ludo avrà dei motivi per quello che ha fatto e io non sono il campione mondiale in carica di gold format quindi mi rimetto a lui ok ora parte se è Ludo vabbè comunque 1684 rating sicuro non è il primo dei deficienti ok lui parte wing blast sorcerer tribe grave keeper spy mind ring lui parte scape sang ring graceful e spia ok ok questa volta è un pochino più forte la sua direi setta spia passa ok pesca metamorfosi che le ha seddate quindi ha sedato un po' control ok fa subito eh la madonna però è skillato sto tipo eh vediamo vabbè saltiamo tutta questa parte ok eh mirror knock scapegoat doppio tante drago ring metamorfosi ok non ha mostri da giocare setta da shoot setta capro magari e passa ah gli fa pure knock boh lo vuoi fare no che in questo capo magari pensa se non decolici non vuole farlo andare ok 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 questo era sensato secondo me questo da shoot non fa tantissimissimo però dash sempre dash setta wing blast passa ok un altro dash per lui again questo è buono perché scarta serpente gli rimanda l'altro vabbè gli rimanda sorcio però va bene così setta un altro wing blast passa stiamo vedendo pochi mostri ok ecco la qua la deco qua penso che debba decidere se bleffarlo oppure abbiamo già fatto un knock le fa lo stesso un altro ad ashoot qui eh qua ottime giocate qua per non bruciarsi il mostro pot pesca due standard drago adesso live anche sorcio standard drago 1.6 setta ring passa questo scape goat l'ha pescato sei volte no ok setta scape passa non c'è motivo ok prima dash shoot per door pop io picchi escape ok la legge è che quando setta no dash shoot tu peschi un mostro importante ma invece la legge non è stata confermata e via il thunder lo scarta perché lo rimanda indietro scarta l'altro ripende in mano ovviamente no cheat va bene ma è comunque lice di prepararsi settare i giki break pesca un'altra dash shoot il game delle dash shoot questo madonna mia ok sorcio sorcio bitta setta dash shoot passa eh sì calma calma raga l'ultimo tango dragon ancora madonna mia sei dash si sono fatti incredibile eh questa almeno vabbè e muove bitta setta 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 blefa anche passa pesca mesti passa c'è una mirror quasi ok escape start per virus virus è buono via sorcio vabbè ring su tribe vita mirror terror eh per forza scopre passa knock knock pescato quando scoperti di mamma mia che dolore ok vitte farei jackie break cosa fa setta assalitore pesca escape madonna mia che game lungo ragazzi ok setta la giara si becca mesti ma va anche bene esplode delinquen duo fortissimo ora è ancora più forte secondo me ok bls charing ma vabbè becca due capre passa pesca breaker poco utile pesca greysport uno due tre g non gli interessa neanche non ho fatto neanche breaker neanche breaker arrabbiatissimo ok partirà blu adesso vediamo parte spia deco sorcio virus mirror poi parte breaker moff thunder drago knock upstart ok due partenze incredibili pesca un altro mostro ok male male aspetta spia passa knock velocissimo thunder drago upstart pesca heavy fa ancora ok fa set fede passa eh questo fede parte non ha da incredibilmente però parte lui setta kiko blef setta mirror per prepararsi kiko però ha ha anche breaker 300 danni secchi impronte ok pesca heavy anche lui qua aspira un po' ok pesca caos attiva pesca eh sì questo breaker è molto forte c'è modo che può fare qualcosa no deve pescare ma non c'è modo comunque pesca un'altra appola forte bitta tutto no deve far più 300 ok pesca la dash shoot il moffo è bello giallo deve fargli per forza virus mi sa virus scarta moff live questo vitta e almeno ha pulito set a 2 passa ok via il sorcio pro pro set heavy attenzione mind control non picchia neanche ok perché non picchia neanche non picchia non picchia neanche non l'ho capito ok tt breaker istantaneo scarto sorcio per cominciare a pushare un po' no che non gli fa assolutamente nulla ok ring buona anche qua ottima top deck questa buona top deck su madonna rega madonna rega non fa tanto ma fa non fa tanto ma fa vincere praticamente questo ring heavy storm ring gg gg no niente da dire ha pescato le carte perfette nel momento perfetto abbiamo avuto una grande mano qua da rosso chaos mirror match mi stufo un po' però voglio la spezia voglio la spezia zombira bellissimo ci vediamo nel prossimo video ragazzi ciao ciao